Bentornati su Ado Sangente. Oggi vi mostro l'ultima idea pastorita dalla casa produttrice di videogiochi di Kyoto Nintendo. Stata Dising Fit Adventure, un gioco per Switch che grazie all'aiuto di un laccetto e un anello, un volante, ci permette di unire fitness con i videogiochi. Questi sono le mostre basi, ecco le modalità che vanno da partite veloce a scelta per fare delle due team quotidiane e anche modalità avventura che fonde l'attività fisica ai giochi di loro classici giapponesi tipo Dragon Quest. Bene, ora partiamo alle impostazioni. Beh, non mi esercito da tempo quindi mettiamo un po' va. Ma voglio ugualmente un po' di sfida. Tieni il Rincon con forza. Ok. Tieni il Rincon con entrambe le mani e guarda davanti a te. Allarga il Rincon con forza. Ok. Divarica un poco le gambe e mettiti in posizione retta. Ok. Fai una corsetta leggera sul posto. Ok. Divarica un poco le gambe e mettiti in posizione retta. Fai una corsa veloce sul posto. Ok. Adesso un po' di stretch dinamico che non guarda mai. ma è prima di un po' di moto. Cominciamo con lo stretching dinamico. Segui i feet ma senza esagerare con i movimenti. Bene, e ora musica! Segui gli stessi movimenti di feet. 3, 2, 1, via! Solleva a turno le ginocchia e tocca il ring con. La schiena deve rimanere dritta. Ancora una volta. Molto bene! Ora passiamo al sollevamento dei talloni. Solleva le caviglie verso l'interno e tocca il ring con. Concentrati sul movimento delle caviglie verso l'alto. Ancora una volta. Molto bene! Passiamo all'allungamento della schiena. Fai un lungo passo in avanti e affonda il bacino. Non spostare le ginocchia troppo in avanti. I piedi devono puntare dritti davanti a te. Ancora una ripetizione. Molto bene! Infine, divarica le gambe e allunga i muscoli laterali. Solleva il ring con i piegati su un lato. Mantieni dritta la parte bassa della schiena. Mentre ispiri, comincia a piegarti. Ancora una ripetizione. Ottimo lavoro! E da questo passiamo al personaggio. Scelgo la donna perché in copertina compare lei quindi mi piace essere canonico alle cose. Ma donna sia! ecco la mappa di gioco. Adesso ci spazio all'avventura e all'esercizio fisico. ci spazio all'esercizio fisico. ci spazio all'esercizio fisico. ci spazio all'esercizio fisico. un po' più avanti c'è una porta. Andiamo a dare un'occhiata. Prova a comprimermi. In questo modo puoi sparare colpi d'aria complessa. Tienilo a mente. Puoi sparare anche quando mi punti a destra e a se fai fatica a prendere la mira significa che sono male allineato. Rivolgimi verso il basso per ricalibrarmi. Guarda! Ecco la porta! guarda! guarda! Così! Ostacolo in vista! Puntami verso il basso e comprimi! Voilà! Così! È più facile salire le scale se sollevi le ginocchia per bene verso l'alto! Ok! Così! Aspetta un attimo! Allargani e puntami da entrambi l'agava! Diamoci una mossa! Una bella sudata, eh? Ora facciamo una bella posa della vittoria e la tua fatica si convertirà in preziosi punti esperienza! Accovacciati e accumula il devastante potere degli squat! E poi distenditi verso l'alto! Corra! Ecco, questo è il secondo di quanto brucio, come calorie, il percorso e il tempo totale. 15 kilocalorie, boh! Ecco anche l'esplenza, speravo di aumentare di un livello, ma boh! Forse ho mancato qualcosa, ma... 16 kilocalorie, boh! 16 kilocalorie, boh! 16 kilocalorie, boh! 17 kilocalorie, boh! Ecco un po' di storia! Uh-huh. Grazie a tutti. Non mi fido. Ecco, sospettavo ci fosse un demon e poi è stato imprigionato dentro. Eh vabbè, lo saprei. Draco, fermati! Scusa, non volevo spaventarti. Quello era Draco, un drago che irradia un'aura oscura e pericolosa. Chi avrebbe immaginato che fosse ancora così forte? Oh, a proposito, io sono Ring. L'aura oscura di Draco ha un effetto orribile su tutto ciò che tocca. Se dovesse diventare più forte, la sua aura influenzerebbe il mondo intero. Devo fermarlo. Ma il mio potere da solo non è abbastanza. Tu non sei di queste parti, vero? Beh, certo che non lo sei. Però... Sì, potrebbe funzionare. Vedo che hai potenziale. Potresti provare ad afferrarmi con la mano destra? Copri delicatamente la telecamera IR con il pollice destro, come mostrato. Misurazione in corso. Non muovere il pollice. Guarda! Sincronizzazione completa! Ora c'è una connessione tra noi. Riesci ad avvertirla? Dai, mettiamoci subito alla ricerca di Draco. Ehi, non facciamo scherzi. Tu verrai con me, vero? Più ti alleni, meglio ci sincronizzeremo. È facile da capire, perché i tuoi capelli diventano fiammeggiati. Conto su di te! Ehi, non facciamo scherzi. Puntami verso il basso e tienimi compresso. Perfetto! Niente male! Il Ok, che vai far! Oh oh, guarda chi si vede! Per sconfiggere i mostri creati da Draco, dovremo affrontarli negli scontri fitness! Ma niente paura, agli scontri fitness! Lascia che ci pensi! Considera gli scontri fitness come energie atletiche di due sfidanti che si affrontano E come riscaldamento, diamo una bella lezione a questo tipaccio! Imposta una tecnica e attacca! Ok, si comincia! Prova sforzendo il sedere all'interno Abbassa la schiena senza spingere le ginocchia troppo in aria Se fai fatica con i movimenti, premi il pulsante di... ... 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 Pressione sopra la testa Ok, si comincia Questo esercizio allena le spalle Plezzo! Magnifico! Che roba! Bene! Grande! Incredibile! Alla grande! Benissimo! Forte! Eccellente! Continua così! Mitico! Molto bene! Bel lavoro! Fantasico! Molto bene! Pazzesco! Notizioso! Continuiamo così! Appalo! Alla grande! Dai che ci sei! Ancora 5! Grande! Appalo! Dura 3! Eccellente! Molto bene! Ancora una volta! Ok! Lo temo! Acqua! Ero rosa! No! Non! Ah! Ero rosa! C'era! Senta! Ero rosa! Ero rosa! Ero rosa! Advele è a C'era rosa! Oh, il capito sta crollando! Vai a questa manegra! MITICO! MITICO! Ok, seleziona una tecnica Posizione potente Spiegati lentamente Torna lentamente alla posizione iniziale Non spiegare troppo la schiena all'indietro Ce l'hai fatta Scudo in ali Dovresti sentire tensione nel vento, non nelle panze Imposta una tecnica e attacca Ginocchi al petto Ok, diamoci dentro Ottimo anche per gli uscoli del regalo Splendido Fantastico Mitico Incredibile Apero Eccellente Molto bene Bene Bel lavoro Magnifico Grande Bel lavoro Così Pazzesco Benissimo Eccellente Ottimo Che roba Continua così Notevole Bella battaglia Ciao Qualc conceive Che roba Ero L'agrada Una bella sudata, eh? Abbassa il bacino Allungati! RONSEY! Grazie a tutti. Ok, ora meno per bene il primo boss. Eccoci qua. Grazie a tutti. Ce l'hai fatta? Dannato Draco. Io mica me le ricordavo tutte queste scale. Voilà! Tieni duro! Bene, continuiamo così. Come in, come in! Lei non c'entra nulla con tutto ciò. La questione è solo tra te e me. Seleziona una tecnica! Squat! Ok, diamoci dentro. È l'esercizio mirato per le gaffe. Abbassa la schiena senza spingere le ginocchia troppo in avanti. Se fa infatica con i movimenti, premia il pulsante click. Ent surprisedi! È un po' di risotto! E' un po' di risotto! Aumenta il ritmo Non mollare Notire Ancora cinque Eccellente Splendido Ancora tre Benissimo Bel lavoro Ancora una volta Ok Ok Scusa Sali Continua a scomprire Ok Seleziona una tecnica Pressione sopra la testa Ok si comincia Ottimo per allenare le braccia Bel lavoro Magnifico Comprimi il ritmo con più forte Un bel miglioramento Se fai fatica con i movimenti Premi il pulsante più Continuiamo così Continuiamo così Fantastico Molto bene Ancora cinque Continua così Ok Ancora tre Che roba Ah però Ancora una volta Ottimo Ce l'hai fatta Ricorda di idratarti adeguatamente Posizione potente Spiegati lentamente Spiegati lentamente Torna lentamente Alla posizione iniziale Volpi al vetto Quando sollevi lì Perfetto Perfetto Ancora Continua così Seleziona una tecnica Pressione sopra la testa Ok Andiamoci dentro Spiega leggermente le mani Per fare più forza Comprimi il video con più forza Un bel miglioramento Se fai fatica con i movimenti Premi il pulsante più Fantastico Ho 20 anni Benissimo Grande Ok Ancora cinque Alla grande Così Ancora tre Mitico Dai che ci sei Scora una volta! Bene cominciato! Mantieni la concentrazione! Tieni le gambe leggermente piegate e complicate! Occhio! Sei a corto di cuori! Posizione potente! Piegati lentamente! Torna lentamente alla posizione iniziale! Non piegare troppo la schiena all'inghietto! Grandioso! Scudo finali! Senti la tensione nel ventre quando esplor- Tappato alla grande! Beh l'ho sottovalutato un po' con l'ammetto! Ora livello e gli faccio vedere chi comanda! Magari non proprio adesso! Ora ci scappa una bella pausa! Poi livello e le faccio ambranellino in un secondo momento! Se il video vi interessa magari possiamo proseguire la storia insieme! Basta che commentate e mi fate sapere sotto al video! Come sempre gente se il video è di vostro livello! Supportate il canale iscrivendovi! Dendo like e altre cose del genere! Sono sicuro che domani mi sento tutto intronzito! Ecco, come sospettavo! I miei sette tifoni sono davvero! Un po' di sottotitoli! Grazie mille! Grazie.